Ha scritto questo libro sulla Meloni perché? Intanto è diventata Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi c'è un'attenzione, una necessità di capire qual è stata la sua storia, come è nata, quali sono le sue radici, qual è la sua matrice, qual è il percorso politico che ha fatto e perché questa destra che oggi ha il governo in realtà ha una radice profonda di una destra passata che non l'ha mai rinnegato. Quindi ripercorre da degli strumenti di lettura, delle chiavi di interpretazione, dei punti di riferimento per chi vuole capire la storia di Giorgia Meloni. Come mai ha deciso di scrivere questo libro? C'è una necessità di comprendere bene che cos'è questa destra, una destra che per la prima volta entra al Palazzo Chigi, ricordiamo che appunto la destra dal Movimento Sociale in poi non è mai entrata al Palazzo Chigi se non con Ministri, con Vice Presidenti, come Fini, eccetera. E quindi la necessità è quella di riuscire a interpretare, a capire le chiavi anche di un successo politico. Un successo politico che la Meloni ha fatto una bella gavetta? Come molti politici in questo paese, sicuramente ha fatto una gavetta, cioè ha iniziato a fare politica, ha sempre fatto politica. Quando aveva 16 anni, prima con Nazioni Giovani. Una politica sempre decisamente orientata verso una destra storica, con riferimenti anche a una parte della destra, che è quella di Ordine Nuovo. Ad esempio, un suo faro di riferimento è sempre stato, come dire, quello che era la parte di Pino Rauti di Ordine Nuovo all'interno del Movimento Sociale Italiano. Lei ha scritto questo libro, racconta la storia della Meloni. Intanto la Meloni è Presidente del Consiglio dei Ministeri. Sì, è la Presidente del Consiglio dei Ministri, è interessante anche vedere un po' quello che il suo governo attuale, il libro è uscito ad aprile, quindi è stato chiuso a gennaio, quindi era ancora l'inizio del suo governo. Ora alcune cose cominciano a entrare anche più chiare. Quindi una politica economica decisamente schierata verso un neoliberismo. Ad esempio vediamo la guerra ai poveri, che viene fatta anche attraverso l'abolizione del radio di cittadinanza. Insomma anche la politica fiscale. Quindi, come dire, non ha nulla di quella destra che propagandava una sorta di svolta sociale. Quindi lei da una parte, dal punto di vista dell'azione politica economica, ha un deciso sbilanciamento verso politiche liberiste. Lei si è legata, c'è una parte del libro, che è appunto Meloni l'americana, quindi si è legata alla destra statunitense e repubblicana, che era quella di Ronald Reagan, che ha un preciso, come dire, indirizzo, dal suo punto di vista.